Ben tornati a tutti ragazzi in questo nuovo video, ma ben tornati in generale, perché insomma è qualche giorno che non ci si sente, però ci siamo, tennis ovviamente, fra i vari Master 1000 ci sono questi tornei di intermezzo, chiamiamoli così, Marrakesh e Storill, ovviamente entrambi sono ATP 250, poi abbiamo il WTA di Bogotà, sempre 250, e il WTA di Charleston. Ah, poi dimenticavo, ma questi tornei americani, diciamo, li metto sempre un po' da parte, perché insomma non ci sono italiani, sono lì da, insomma, praticamente solo americani, eccetera, eccetera, ho anche esagerato, però. ATP di Houston, che tra l'altro è, se non erro fermo, al secondo turno, insomma, anche qui, no, anche per il tabellone di Monte Carlo, ad esempio Tommy Paul, che stava giocando anche a Houston, no, si è, cioè, si è cancellato, cioè, si è ritirato da Houston, appunto perché poi c'è Monte Carlo. Ricordiamo, tra l'altro, anche che l'ATP di Monte Carlo non è un Master 1000 obbligatorio, sappiamo, insomma, che i Master 1000 sono, diciamo così, obbligatori, almeno solitamente, però Monte Carlo non lo è, in questo caso. E per questo motivo, si potrebbe anche decidere, insomma, ok, termino Houston, a Monte Carlo non vado, ma la vedo anche difficile, no, come questione, l'ATP di Houston è un 250, in Monte Carlo è un 1000, insomma, è un bel po' la differenza. Però, a parte questo, insomma, settimana, chiamiamola così, di intermezzo fra Master 1000, abbiamo visto Indian Wells e Miami, ora questa settimana così, e Monte Carlo, che inaugura la stagione della Terra Rossa europea. Tra l'altro sono già iniziate le qualificazioni e stava giocando Nardi, che è in vantaggio 4-2 al terzo contro l'STN, quindi, magari, entro la fine del video, riusciremo, insomma, a dare il finale di questo match, si spera. Però, iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, e, che dire, iniziamo con l'ATP di Marrakesh, magari, no? L'ATP di Marrakesh, testa di serie numero 1, Lorenzo Musetti, Bavassori è il migliore italiano del torneo, giunge ai quarti, miglior risultato in carriera, in singolare, a livello ATP, per quanto riguarda Bavassori, Andrea Bavassori, che, ricordiamo, specialista nel doppio, ma negli ultimi tempi si sta cimentando di più, insomma, anche nel singolare. E in questi tornei, no? Può dire la sua, soprattutto su terra, questi 2.50, nei quali, magari, no, non ci sono... Cioè, non c'è il top del top, lui entra in tabellone, supera un primo turno, magari un exploit, e così via. E, infatti, comunque, batte Munar, no? Che, carta alla mano, insomma, a bocce ferme, dovrebbe essere superiore, anche perché siamo su terra. Però, Bavassori, comunque, se la porta a casa. Poi Bavassori perde, comunque, da Daniel Evans, che è numero 30 al mondo. Bavassori è il numero 201, in singolare. Però, 6-3, 7-5, questa sconfitta per lui, ma, quarti di finale, il suo lo fa, e guadagna anche un bel po' di posizioni, se non vado errato. La nota dolente, ah, vabbè, per quanto riguarda altri italiani, c'era Passaro, che supera il primo turno battendo Carazzi, ma Carazzi, ovviamente, a parte quell'exploat di due anni fa, insomma, più o meno, vabbè. Poi, sappiamo che sulla terra, insomma, è poca cosa. Passaro, mi sarei aspettato di più, no? Contro il francese Müller, però è ancora acerbo, diciamo così. Troppi errori non forzati, troppe, insomma, deve stare anche un pochino più calmo, magari, in alcune situazioni. Qualche punto buono, ho visto qualche highlights, così, eh. Non è che ho visto la partita in questa settimana, non ho visto praticamente nulla, per impegni vari, eh. Metto tra parentesi questa cosa. Però, vabbè, comunque, secondo turno. Passaro, che ricordiamo, è, prima di questo torneo, un numero 115 al mondo. Ovviamente, il suo obiettivo qual è? Entrare nei 100, no? Per partecipare, di diritto, a Roland Garros. Slam, ovviamente, su terra. E, per quanto riguarda altri italiani, cioè, niente, questo. Passaro, Vavassori e Musetti, nota dolente, che batte comunque Gaston, 6-2, 6-3. Però, fuoco di paglia, letteralmente, perché poi, contro il francese Müller, cioè, non è tanto, c'è la sconfitta in sé, o meglio, sì. Perché, comunque, Musetti, numero 21, in un torneo del genere, perdi contro un numero 126. E già, a livello di classifica, c'è, cioè, insomma, c'è da parlare. Però, è proprio l'atteggiamento, l'atteggiamento, cioè, sembra veramente che, invece di andare avanti, cioè, si vada indietro. In tutti i sensi, anche proprio nella posizione in campo. Sembrava, no? Cioè, anche perché è così. Bisogna giocare più all'attacco, cioè, una posizione più vicina alla riga di fondo. Anzi, mettere, magari, i piedi, no? Sulla riga di fondo. Invece, cioè, continua a rispondere, a giocare dalla tribuna, praticamente. Io penso, cioè, che ci sia anche, e soprattutto, un blocco mentale. E vada cambiato anche lo staff, a questo punto. Cioè, cambiare allenatore, sì, ok, allenatore storico, tartarini, eccetera, eccetera. Però, a questo punto, credo, cioè, quando le cose non vanno per un periodo così, anche lungo, diciamo così, bisogna cambiare, bisogna cambiare. Almeno, a mio avviso, no? E poi, ditemi la vostra, qui sotto nei commenti, ma, cioè, Musetti, veramente, sembra stia facendo il passo del gambero. Almeno, cioè, questa è la mia impressione. Poi, ok, poi, perché cosa succede? Quando non ti riescono determinate cose, lui già è uno emotivo, no? E deve migliorare, che sotto questo punto di vista, sono stati fatti dei passi avanti nel tempo, sotto questo punto di vista. Però, deve ancora migliorare. E quando, però, si ripresentano questi problemi, ecco che subentra anche, nuovamente, il nervosismo, perché è normale, poi, siamo umani, siamo persone. E, cioè, è tutta una catena. È un circolo vizioso, ecco, chiamiamolo così. Quindi, spero veramente possa riprendersi Musetti, già a partire da Monte Carlo, magari una botta di orgoglio, non so, un qualcosa, perché, cioè, a livello proprio di gioco, migliorare in così poco tempo. Poi, ok, lo sport è strano, il tennis è strano, quindi può succedere assolutamente di tutto, però, insomma. Quindi, speriamo che si riprenda Lorenzo, perché di talento ne ha e come. E poi, per quanto riguarda Estorilli, invece, Marco Cecchinato, semifinale raggiunta, giocherà oggi, contro Ghezmanovic, magari quando, cioè, nel momento in cui vedete questo video, o sta giocando, o avrà già finito di giocare, magari. Speriamo bene. Comunque, già che raggiunge una semifinale dopo due anni, a livello ATP, non è cosa da poco. Giocherà, appunto, contro Ghezmanovic, un solo precedente in carriera, vittoria per 2-0 per il Serbo, lo scorso anno a Santiago, se non vado errato, sì, me la ricordo quella partita, perché la vidi, insomma. Altra semifinale di Estoril, Rude contro Kenten Ali, che comunque sta giocando bene in francese. Rude, testa di serie numero uno, insomma, sulla carta è il super favorito, però, attenzione. Però, vabbè, ricordiamo anche scorso anno, o due anni fa, insomma, adesso non ricordo precisamente, però, Rude, che vinse quei tornei, quei tre tornei di fila, no, in Europa, ATP 250, uno in fila all'altro, quindi sulla terra, in questi tornei, Rude, insomma, non è male. E poi l'abbiamo visto, no, anche qua, che esplorava proprio ad alto livello, almeno in termini, appunto, di andare avanti nel torneo. E quindi, Cecchinato, che nel corso del torneo ha battuto Schwarzman, che però, anche lui sta attraversando, insomma, un periodo così, ha battuto Fognini, 2-7-1, e ha battuto Davidovic-Fochina, 7-5-7-6. E non è male, magari Davidovic stava pensando, non so, a Monte Carlo, però, cioè, diamo anche i meriti, comunque, a Cecchinato. Sono contento di rivederlo, comunque, anche se è un 2-50, in una semifinale, in generale. Quindi, speriamo bene. Ah, poi, per quanto riguarda Monte Carlo, prima che me le dimentichi, veramente, defezioni importanti, ma credo che già lo sappiate se avete seguito un po' le notizie degli ultimi giorni. Oltre a Nadal, che, ovviamente, lui sa quando potrà tornare a giocare, quando si sentirà, insomma, al meglio. Carlos Alcaraz. Lo stesso Fognini, che aveva, che usufruiva, avrebbe usufruito, anzi, di una wildcard, quindi di un invito. Lui, che ha già vinto questo torneo, no? Nel 2019, il suo unico Master 1000. Però, infortuna al piede. Anche qui, mamma mia, che sfortuna. Poi, qualcun altro, sicuramente, insomma, avevo letto nei giorni scorsi, adesso non lo ricordo, però, insomma, delle defezioni importanti. Ma già che non ci sono due spagnoli, che, la cui, cioè, la cui casa, insomma, è la Terra Rossa. Nadal, che ha vinto, non si sa quante volte, questo torneo. Alcaraz. Fino a pochi giorni fa, numero uno al mondo. Insomma, fenomeno mondiale. E, cioè, sono delle assenze importanti. Poi, sicuro, sicuro mancherà anche qualcun altro. C'è quella questione di Houston, no? Vediamo cosa succederà, perché quel torneo è fermo al secondo turno e siamo al sabato, praticamente, a causa pioggia, fermo, ovviamente. E vediamo cosa succederà. Io credo, ovviamente, che però si preferirà, insomma, almeno per quei giocatori, o meglio, tranne che per quei giocatori che, comunque, non sono proprio così performanti sulla Terra Rossa, e quindi, magari, sfruttando, no? Sfruttando i ritiri degli altri, rimarranno a Houston e tenteranno di vincere il torneo. Gli altri, credo che, ovviamente, cioè, se si andrà avanti così, inizia Monte Carlo. ATP Master 1000, cioè, me ne vado da Houston e vado a Monte Carlo, cioè, chi se ne frega, tra virgolette. Però, vabbè, staremo a vedere. Quindi, giusto per la cronaca, ATP di Houston. Siamo fermi, veramente, al secondo turno. Sono iniziate solamente due partite. Isner Brower e Kudla Wolf, di secondo turno, e quindi, ovviamente, di ottavi di finale. E vediamo come andrà, insomma. WTA di Charleston, invece. Semifinale, Pegula, Bencic, Kasatkina, Jaber. Questo, oddio, ho un dubbio. Non so se sia un 250 o un 500, però, vabbè. Poco importa, poco, almeno, per quanto riguarda, mi importa, sinceramente. Mentre, per quanto riguarda il WTA di Bogotà, avevamo, comunque, Sara Errani, che ho smesso, poi, di seguirla ad un certo punto. Anche Nuria Brancaccio, che ha perso, comunque, ai quarti di finale contro Tatiana Maria. Però, Brancaccio, anche qui, ottiene i suoi primi quarti di finale in carriera, a livello ATP, dopo aver vinto, no? Il primo match, a livello, a livello WTA, scusate, non ATP, ovviamente. E Sara Errani, invece, dove si era fermata? Al primo turno, forse, sì. Ha perso contro Avanesian, dopo aver superato, se non ero le qualificazioni, era l'altro, però, vabbè. E, poi, vabbè, dei challenger, insomma, Murcia, Barletta, un challenger in Messico. E, giungiamo, quindi, alle qualificazioni di Monte Carlo, che, ripeto, sono iniziate. E Nardi siamo 5-2, e servizio all'estiene. Quindi, non è finita questa partita, speriamo che finisca presto, ovviamente, con la vittoria di Nardi. Quindi, spero di non essermi dimenticato nulla, insomma, un po' un recap, un po' un mio pensiero, in generale, su questa settimana. Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra, qui sotto nei commenti. Al prossimo video.